Un evento che va a caratterizzare questa estate del 2024 anche perché ci sia questa comunione di intendi tra Samet e Grotta a Mare per un grande evento. Sì, un evento grande che si ripete ormai da diversi anni. Dall'anno scorso c'è questa doppia data, la prima a San Benedetto, la seconda in piazza Cursala a Grotta a Mare, dove vengono messe in vetrina proprio le eccellenze del campo della moda del nostro territorio. E a volte è veramente una sorpresa scoprire quante realtà ci sono di eccellenza nel nostro territorio. È veramente ogni anno una sorpresa. Grazie.